La Polizia di Stato di Enna ha notificato un avviso di conclusione indagini e relativa informazione di garanzia emesso dalla Procura della Repubblica di Enna nei confronti di un uomo ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale nei confronti di una minorenne. Le indagini hanno avuto origine agli inizi del marzo scorso, quando la minore, accompagnata dai propri genitori, si è presentata presso gli uffici della squadra mobile di Enna, dove ha raccontato che poco prima, scesa nell'androne del palazzo dove abita, aveva ricevuto delle attenzioni da parte di un commesso giunto sul posto per consegnarle un plico e chi ha l'atto di farle mettere la firma sul documento di consegna le si era avvicinato al punto di strofinarsi sulla stessa mimando l'atto sessuale. La ragazza, dopo essere riuscita a svincolarsi e rientrata in casa, dove in preda a una crisi di pianto, ha raccontato quanto accaduto prima ad alcune sue amiche attraverso l'invio di un messaggio vocale WhatsApp e successivamente ai suoi genitori che senza perdere tempo l'hanno accompagnata presso la questura di Enna. A seguito di mirati accertamenti, i poliziotti della squadra mobile sono riusciti a risalire all'identità del presunto autore del reato. A fronte di ciò, la procura della Repubblica di Enna ha disposto l'audizione della minorenne in modalità protetta, eseguita nell'immediatezza dal personale della squadra mobile con l'ausilio di una psicologa giuridica forense. Nella circostanza, la vittima ha confermato con lucidità i fatti già riferiti nella denuncia.